Musica In questo progetto abbiamo realizzato una macchina robotica. Come prima potete mettere una macchina robotica, 4 metri da moto, 021 number, 025 da moto, W1 ride out, W1 wind in, un hit red button, un 06 buzzer, W1 volt port, un 025 da moto e un T1 power in batteria. Musica Per il little piece abbiamo costituito un murino a vento. Musica L'abbiamo realizzato con una batteria da 9 volt, attaccato al P1 power. Qui per allungare il circuito abbiamo messo due wire out e alla fine 11 motor. Musica 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 Perché le persone rimangono più diverse e potete fermarsi al lavoro. Musica Musica Ok, spegnilo. Riaccendi. Che cos'è questo Alfredo? È un mostro... con l'immagine importante. Musica 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 Grazie a tutti.